Giustamente il microfono non ha registrato nulla fino adesso Non so se c'è un piccione o un corvo Bro Big Magic di Liz Dissetiamoci con un po' di caffè, mi sembra giusto Devo iniziare a bere decaffeinato, oltre che acqua E pensi, da domani, anzi no, da ora, da questo momento, dalle 11.24 Ho deciso, prendo possesso della mia vita e la trasformo e inizio la mia evoluzione personale Quante volte ti sei addormentato piangendo perché avresti voluto quello che hai ora Un lavoro, un amore, una casa, un'istruzione, un amico Puntini puntini, punto 100 Come fare per ricordarselo sempre ed esserne grati Il mio voto finale per questo libro è Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Febe Lunare Oggi parleremo del libro che ho letto nel mese di gennaio Quindi praticamente ritorno alla rubrica Book of the Month Sentite la mia voce un po' così È perché stamattina sono super rauca e non ho capito il motivo ma va bene Spero che il microfono mi aiuti Benvenuti a tutti i nuovi iscritti Benvenuti a chi non è ancora iscritto ma ha guardato magari ultimamente dei miei video Ti invito ad iscriverti se non sei ancora iscritto perché stanno per arrivare tantissimi video Sulla crescita personale Tutti rivolti alla tua evoluzione personale Per rendere il 2024 un anno meraviglioso E ovviamente tutti gli anni a seguire Il mio 2024 a livello di libri non poteva che cominciare con un libro sulla crescita personale Come vi ho anticipato nel mega video sulla mia organizzazione di tutto il 2024 Ho già stilato la... non è una classifica ma una lista di tutti i libri che andrò a leggere nel 2024 Mese per mese La mia sfida personale che anche quest'anno traccerò su Goodreads Se ci siete seguitemi anche lì Sarà leggere 12 libri in un anno Con però un libro bonus al mese Quindi quando riuscirò a leggere il libro Magari lo finirò prima della fine del mese Potrò cominciare un altro libro O comunque lo potrò cominciare anche insieme Non è detto che debba finire per forza uno per iniziare l'altro Ad esempio per il mese di febbraio vi anticipo già Che ho iniziato a leggere prima il libro bonus Ebbene sì Ma chiusa parentesi cominciamo subito Il libro di cui vi parlerò in questo Book of the Month è questo Libro super visto nelle foto di Pinterest e di tantissimi influencer 101 riflessioni che cambiano il modo di pensare Innanzitutto questo è il titolo appunto Ed è un titolo che inizialmente non mi rimaneva in testa Non so perché Forse perché l'ho visto in tantissime foto con il titolo originale Quindi la copertina originale E non so perché mi è rimasto questo 101 modi per mi veniva da dire Comunque il titolo devo dire che non mi riusciva a rimanere per nulla in testa La grafica è molto semplice, minimale Insomma ti può attirare da subito L'autrice è Brianna West Non so se si pronuncia così Spero di sì E tra l'altro come c'è scritto qui alla fine in cui c'è la sua foto È classe 1992 Quindi la mia classe Giustamente il microfono non ha registrato nulla fino adesso Però non voglio rifare tutto perché mi è piaciuta l'intro che ho fatto Quindi la registrazione attraverso il microfono partirà da ora Stavamo giusto appunto dicendo Classe 1992 È diventata super famosa per questo libro Ma poi anzi forse il primo libro che ha fatto è stato non questo ma La montagna sei tu Che io avevo conosciuto tramite una youtuber canadese E lo conoscevo solo in lingua originale Infatti per questo per mia pigrizia non l'ho mai letto Ma mi ha sempre attirato molto e l'ho programmato mi sembra nei libri dell'anno Perché l'hanno poi tradotto nella nostra lingua in italiano È 390 Il prezzo di copertina è di 16,50 euro E adesso vado a leggervi quello che c'è scritto dietro Perché come sapete se avete guardato gli altri miei book of the month Leggo sempre la trama del libro La trama effettivamente si trova qui Quindi andiamo un po' veloci leggere entrambi Se ci sforzassimo di considerare i problemi come mattoni per costruire una vita migliore Usciremmo finalmente dal labirinto della sofferenza E faremmo una scoperta meravigliosa La felicità Come potete intuire è un libro che si basa proprio sulla costruzione della felicità personale Alzi la mano chi non ha mai dovuto superare un momento difficile O la fine di una storia d'amore Chi non si è mai sentito scoraggiato, demotivato o insicuro Chi non si è mai chiesto come smettere di crearsi i problemi E poter finalmente raggiungere la felicità La soluzione è più semplice di quanto si potrebbe credere Secondo la seguitissima giornalista Brianna Wies Il trucco è ribaltare la prospettiva Imparando a vedere le difficoltà e gli ostacoli Come opportunità di crescita e di conoscenza di sé Solo così si riesce a trasformare la sofferenza In un'occasione per migliorarsi E prendere in mano la propria vita Rivoluzionando giorno dopo giorno Rivoluzionandola giorno dopo giorno Con la voce amichevole di Chi ci è passato Brianna parla delle insicurezze e dei dubbi di ciascuno di noi In questo viaggio la scoperta del potere della mente Ci svela i comportamenti inconsci che ci impediscono di realizzarci E ci insegna a coltivare l'intelligenza emotiva Invitandoci a superare i nostri limiti E a trarre il meglio dalle cose semplici e inaspettate Nell'estate del 2021 101 riflessioni che cambiano il tuo modo di pensare È diventato un successo internazionale del passaparola Conquistando migliaia di lettrici e lettori in tutto il mondo Un libro ricco di suggerimenti e spunti Consigliato come lettura imprescindibile da testate come Forbes e Cosmopolitan E partirei proprio da quest'ultimo punto Ovvero un libro ricco di suggerimenti e spunti E effettivamente è così Perché in questo libro ci sono appunto 101 capitoli Come dice il titolo stesso In cui vengono veramente elencati un sacco di consigli Sulla nostra crescita Consigli proprio su come vivere Il modo di vivere giusto Non che ci sia un modo di vivere giusto Ma un modo che ci faccia sentire bene con noi stessi E bene nel rapporto con le altre persone Per quanto riguarda le mie opinioni generali Posso dirvi che ho iniziato questo libro divorandolo Perché molto spesso mi capita questa cosa Comincio il libro e leggo tipo le prime 50-100 pagine E poi lo lascio lì per un po' Non so perché mi capiti questa cosa Ogni volta dico no Questa volta lo finisco subito Cioè in tre giorni lo finisco Poi leggo le prime 50 pagine E rimane lì sul comodino per un po' In realtà adesso mi sono resa conto appunto Che questa cosa non va bene Perché la lettura deve essere comunque Cioè se uno ha l'obiettivo Come uno degli obiettivi della propria vita Delle proprie routine La lettura È giusto che ci sia ogni giorno Una piccola parte di giornata dedicata alla lettura E non che magari un giorno ti metti lì Ti dedichi tutto quel giorno a leggere Sì ci sta anche quella giornata Per carità assolutamente Però come avete visto Se avete visto l'ultimo libro Nella Bit Tracker del mese di febbraio Ho proprio messo in lettura Perché mi sono resa conto Che ho necessità di tracciare questa abitudine L'abitudine della lettura Ecco per poter rimanere al passo E non leggere tutto insieme all'inizio E poi magari rincorrere la fine del mese Per poter finire il libro in tempo Non è una cosa molto sana secondo me E quindi voglio cercare di eliminare questa abitudine Però questo libro L'ho letto sì Tanto all'inizio Ma poi sono riuscita comunque A portarmelo dietro per tutto il mese Leggendo un tot di pagine al giorno Quello che penso di questo libro È che può essere sicuramente Un libro ottimo per iniziare l'anno Quindi vabbè Ormai gennaio è andato Febbraio siamo quasi a metà Siamo comunque nel primo trimestre dell'anno Se volete iniziare un cambiamento Questo libro ve lo consiglio Perché è un libro molto molto semplice Molto anche schematico devo dire E questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio Perché un libro schematico Sicuramente facilita la lettura Ma potrebbe anche fare ammosciare un po' le persone Nel senso È molto un libro a elenchi Cioè apro qualsiasi pagina Elenco Qua non c'è un elenco Però ci sono tantissimi punti Quindi oltre ad avere 101 capitoli E già gli dici Ok Ovviamente tutti questi capitoli Trattano argomentazioni diverse Quasi tutti questi 101 capitoli Sono a loro volta suddivisi In molti paragrafetti In molti punti Quindi punto 1, punto 2, punto 3 E questo può sì aiutare In un certo senso la lettura Ma può anche andare magari A far perdere quell'entusiasmo Perché è come se andassi a leggere un po' Che ne so Uno schema all'università Mi vengono in mente gli schemi Che mi facevo all'università Quando leggevo i mappazzoni di libri E mi facevo gli schemi 1, 2, 3 Diciamo che potrebbe andare un po' a gusti Un po' a sentimento Io però comunque mi sento di consigliarlo assolutamente Soprattutto alle persone che si stanno approcciando A questo tipo di mondo A questo tipo di libri Quindi libri self-help Libri di crescita personale Di autoaiuto Perché potrebbe essere considerato un po' la base E soprattutto lo considero un libro Molto molto motivazionale È un libro che va a spronare Più che andare a dare consigli Che assolutamente ci sono tantissimi consigli preziosi Che condivido Condivido i punti di vista dell'autrice Forse solo una volta mi sono ritrovata un po' in disaccordo Non mi ricordo assolutamente su cosa Verso la fine del libro Però condivido assolutamente la sua visione Mi viene anche in mente di poterlo paragonare Ad un libro che ho sempre straconsigliato Alle persone che si approcciano Al mondo della crescita personale Al mondo del risveglio interiore A quei gruppi di persone Che sentono di dover fare un passo verso qualcosa Ma non sanno che cosa fare Si trovano in una fase di confusione Il libro di cui sto parlando è Big Magic Perché quello per me è stato il libro base Il libro iniziale Il libro che mi ha fatto sbloccare in tanti campi della mia vita Che mi ha fatto aprire il canale YouTube Che ha riacceso in me la creatività Che ha fatto oltre che risvegliare tante cose che si erano sopite Ha fatto anche rendere conto di quanto sia importante Coltivare il nostro benessere fisico, mentale e spirituale E che è un po' la base Sempre stata un po' la base Del mio canale Ecco quindi Mi sento di Par... Non so se c'è un piccione o un corvo Forse c'è una cornata non lo so Ma è andata nel balcone vicino Non è il nostro Comunque mi sento di consigliarlo assolutamente A quelle persone che si stanno approcciando a questo mondo E quindi a paragonarlo a quel libro Big Magic di Liz... Big Magic di Elizabeth Gilbert Dissetiamoci con un po' di caffè Mi sembra giusto Devo iniziare a bere decaffeinato Oltre che acqua Sono le 11.20 E questo è già il secondo caffè Ma vabbè Quindi dicevo Oltre che a queste persone Mi sento di consigliarlo anche alle persone Che magari si sono già affacciate a questo mondo Hanno già letto diversi libri inerenti Ma stanno un po' perdendo la motivazione Stanno un po' perdendo la bussola Questo libro potrebbe davvero sfronare tutte quelle persone Io l'ho trovato molto molto motivazionale Quindi lo classificherei più come libro motivazionale Che come libro che rivela la verità assoluta O non so Un librone su... Non so come dirvi Lo vedo molto motivazionale Quindi secondo me Per lo sprint Che dobbiamo avere all'inizio dell'anno Per portarci dietro questo sprint Ormai l'inizio dell'anno Come vi dicevo È praticamente passato Perché siamo già a metà febbraio Quasi Siamo sempre nel primo trimestre dell'anno Quindi alcune persone potrebbero avere perso La carica allo sprint iniziale Che si ha sempre Quasi sempre I primissimi giorni dell'anno Ma dobbiamo anche pensare che Uno Non c'è mai fine All'inizio Nel senso che possiamo iniziare Il nostro percorso di crescita In qualsiasi momento In qualsiasi mese dell'anno In qualsiasi giorno Non dobbiamo aspettare il lunedì Non dobbiamo aspettare l'inizio del mese Non dobbiamo aspettare l'inizio dell'anno Possiamo iniziare ora Finito questo video Tu prendi Decidi Ti metti lì E pensi Da domani Anzi no Da ora Da questo momento Dalle 11.24 Ho deciso Prendo possesso della mia vita E la trasformo E inizio la mia evoluzione personale Quindi Tutto questo l'ho detto per cosa? Non lo so Mi sento molto carica Sarà perché Sto bevendo il secondo caffè Tutto questo l'ho detto perché Le persone che magari hanno perso Questa voglia Questo sprint Questo sparkle Possono iniziare a leggere questo libro E vedere se effettivamente Potrebbe dare la giusta motivazione Secondo me Bella potrebbe dare Ma ora Mi taccio un po' Sulle mie opinioni generali E vi dico Vado a parlare Delle cose che ho sottolineato Come sapete Se avete visto I miei vari book of the month Io generalmente Sottolineo sempre I libri Di crescita personale Ovviamente Anche perché sono tipo Un 90% Quelli che leggo Totalmente Durante l'anno Non lo faccio sempre Prima lo facevo sempre All'inizio Quando proprio Ho iniziato Anni e anni fa Anni e anni fa Sarà stato 2017-2018 Sottolineavo Ogni libro Che ho ancora Nella mia libreria Ovviamente E che ogni tanto Dovrei andare a spulciare Ma Poi negli anni Mi sono un po' Impigrita in questo Pensate addirittura Che all'inizio Tutto quello Che sottolineavo Lo andavo a trascrivere In un'agenda bullet In cui Mettevo il titolo Del libro E mi scrivevo Tutte le cose Che avevo Sottolineato Di quel libro Quindi poi però Il processo Di decadenza Ho iniziato E ho iniziato Eliminando Questa parte Anche perché Non avevo più Il tempo Di prima E poi Continuato Non sottolineando Più Però comunque Per alcuni libri L'ho anche fatto Continuato a farlo Per questo libro Sinceramente Non l'ho fatto Perché non lo trovo Un libro Molto da sottolineatura O meglio Sì Alcuni capitoli Ci sta Sottolineare Ma Essendo già Tanto schematico Di suo Cioè uno può aprire Una pagina E leggere Per dire Anche un capitolo In cui non ci sono numeri E non è schematico Guardate quanto dura Due pagine Cioè Se uno vuole un attimo Un'ispirazione Va Lo prende Apre Però Ho fatto Un segnetto Con un'orecchietta All'inizio Del libro Che non mi ricordo Assolutamente Però Mi ricordo Che ho detto No Questa cosa Me la devo segnare E me ne devo ricordare E adesso Andiamo a vederla insieme Perché non l'ho ancora rivista E sarebbe Il capitolo 13 Dal titolo 101 cose A cui vale la pena Di pensare Anziché tormentarsi Inutilmente Quindi In questo capitolo Come vedete C'è un elenco Di 101 cose E probabilmente Mi aveva colpito In maniera particolare E ho detto Questo qua Me lo devo Segnare Non starò qui A leggervi ovviamente Queste 101 cose Andiamo a caso Per ogni pagina Che sono Uno Due Tre Qua No Ogni pagina No Facciamo che ve ne leggo Cinque E andrò a caso col ditino Nella prima pagina Prendiamo questa La numero cinque I parametri attraverso cui Valuterai l'anno Appena trascorso Quanti libri avrei letto Quanti progetti avrei portato a termine Quante relazioni avrei coltivato Come avrei trascorso Come avrei trascorso le tue giornate Quindi Questa è una delle cose A cui vale la pena pensare Anziché Tormentarsi inutilmente Poi leggiamone un'altra Facciamo tre Non cinque Perché sennò viene un video lunghissimo Numero 20 Cosa a livello inconscio Ti lega ai Tra virgolette Problemi Che non riesci a superare Nessuno si aggrappa a qualcosa Che non gli dà nulla in cambio O che non lo fa sentire Tra virgolette Sicuro Andiamo L'ultima cosa Andiamo un po' più avanti Questa pagina qui O l'ultima L'ultima Ce ne sono due Vediamo quale becco La prima Che è la numero 100 Come fare Per ricordarselo sempre Ed esserne grati Ok Questa si riferirà Al punto precedente Quindi il 99 Devo leggere per forza anche questo Che Quante volte ti sei addormentato Piangendo Perché avresti voluto Quello che hai ora Un lavoro Un amore Una casa Un'istruzione Un amico Puntini puntini Punto 100 Come fare per ricordarselo sempre Ed esserne grati Forse letto così Non rende Però Ti fa molto riflettere Su certe cose E oltre che riflettere Ti dà Secondo me La giusta motivazione Per ricominciare Per Cominciare Quindi Sia se sei in un momento No Sia se sei in un momento Di stallo O in un momento Di confusione In qualsiasi momento Tu sia Nella tua vita Secondo me Questo libro Può spronarti Può darti La giusta carica La giusta motivazione E lo ha fatto con me Anche se Effettivamente Mi trovo in un momento Positivo Della mia vita Però mi ha aiutata A capire Quanto debba dare importanza Alle giuste cose A quello che mi fa stare bene E mi ha fatto ovviamente Anche riflettere Su tantissime cose E ora Il mio voto finale Sono molto indecisa Ma il mio voto finale Per questo libro è 5 su 5 Ebbene sì Io che non sono tanto Di manica larga Perché mi ricordo Che nei passati video Non riuscivo mai A dare questo 5 su 5 Ho deciso Vai 5 su 5 5 su 5 Perché Perché è un libro Che secondo me Può andare a contentare Un po' tutti Può andare a contentare Le persone Che si affacciano Per la prima volta Alla crescita personale Le persone Che conoscono già bene L'argomento Gli argomenti Ma che Devono un po' Ritrovarsi Devono un po' Ritrovare la quadra E le persone Soprattutto Secondo me Le persone Che si sentono confuse Che non sanno Cosa fare Nella propria vita Che vorrebbero Cambiare strada Ma non sanno Come farlo Questo è un libro Prezioso E quindi Sì Ve lo consiglio Assolutamente Ero un po' Indecisa Sul voto Perché ero appunto Indecisa Tra il 4 su 5 E il 5 su 5 Per il fatto Che è un libro Molto schematico E forse Forse questo Alla lunga Stufa un po' Però Mi sono sentita Di dare questo voto Proprio per Incoraggiarvi a leggerlo Perché secondo me Potrebbe Fare la differenza Soprattutto in questo periodo Dell'anno Quindi sono super Super contenta Di averlo letto Per il mese di gennaio Ma come vi dicevo prima Ve lo ridico di nuovo E non smetterò mai Di dirvelo C'è sempre tempo Per i nuovi inizi Non c'è bisogno Di aspettare Domani Lunedì Qualsiasi giorno Puoi Prendere la tua vita E farne quello che vuoi Oggi stesso E ora veniamo All'insegnamento Che mi ha dato Questo libro Penso che l'insegnamento Sia proprio questo La frase che ho detto prima Puoi prendere la tua vita Oggi stesso E farne quello che vuoi Puoi fare quel passo Che hai paura Di fare Puoi Ricominciare da capo Puoi resettare Completamente Puoi fare quella mossa Puoi Puoi davvero fare tutto Tutto parte da te E state scegliere Quindi Non ascoltare Troppo Perché è giusto Ascoltare Per carità Però Non farti influenzare Eccessivamente Dai pareri degli altri Il parere principale E il tuo La vita è la tua Quindi Ascolta te stesso Questo è quello Che mi ha dato il libro Insomma Questo è l'insegnamento Anche un altro insegnamento Che mi ha dato È che Ci saranno sempre Momenti In cui magari Penserai Ma Questa Questa crescita personale Questa evoluzione Questa vita dei sogni Ma quando mai La raggiungerò Ma Non ha nulla Di tutto questo Senso Non ne voglio più Sentir parlare Ci saranno Quei momenti Perché potrebbe succedere Che una delle leggi universali È proprio questa La legge del divenire La legge degli alti e bassi Insomma È normale Ci sono momenti Up Momenti down Quindi Mi sono un po' persa Perché mi sto emozionando Non so perché Ma Leggete questo libro E mi si sta anche scaricando La batteria Della videocamera Quindi direi che Forse sono stata Anche la distensione Di parlare Però non voi Potrete continuare A vedere i miei video Se siete interessati Alle mie vecchie recensioni Book of the month Vi lascio la playlist Alla fine di questo video È linkata in descrizione Vi ringrazio nuovamente Per esservi iscritti Al mio canale E se non siete iscritti Vi ricordo nuovamente Di iscrivervi Potete aspettare Il termine del video In cui comparirà L'immagine del mio canale E il tasto iscrizione Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Mi raccomando Mi incoraggerete Per la prossima recensione Del libro E prima che si spenga La videocamera Io vi saluto Vi mando un abbraccio Grandissimo E come sempre Ricordate che Se state guardando la luna La sto guardando anche io Ciao Grazie a tutti